Da cosa attrae ispirazione? L'ispirazione viene da guardare le cose, da girare intorno per la città. Io amo molto la città, amo molto i segni della città, i segni del vivere. Amo i lampioni, amo le luci artificiali, amo la luna, amo i contrasti tra la notte e il giorno. Ma tutto quanto si poi si traduce nella tela o nelle mie carte in teatrini. Teatralità del quotidiano perché rappresento in questa mostra proprio dei teatrini, delle opere tridimensionali che vanno a interagire con lo spazio. Infatti io vengo dalla scenografia, ho lavorato in teatro, lavoro in teatro come regista, come scenografo e mi interessa molto quello che è l'aspetto appunto del quotidiano tra la finzione e la realtà, un po' il discorso pirandelliano, Antonio Gnartò, il teatro del suo doppio. E quindi questo rapportarsi con il reale, con il fantastico, con il surreale diventa un po' l'elemento fondamentale della mia opera. Anche poi da qui vado poi a interagire con lo spazio e quindi mi interessa anche creare degli oggetti di design che partendo dal quadro vanno a vestire l'ambiente. Ho realizzato delle porte quadro, l'arte da appendere al collo, delle cravate, degli oggetti di design, fino a delle sculture che sono simboli della città di Fano che rappresentano appunto quello che è il simbolo del carnevale, perché il carnevale è un'altra realtà proprio essendo il carnevale la finzione, quindi il carnevale è l'aspetto proprio carnascialesco della realtà e quindi vado a interagire con il carnevale creando degli oggetti appunto per questa manifestazione fanese.